una pizza dai che facciamo una pizza no, a me non è bene, ma è una conversa e come va? ma cazzo l'ha finita, sei registrando? su, con le mani signora, ma è benedetta parodi ma è benedetta parodi facciamo lo show faccio la pizza come piace a mio marito Fausto e come funziona? e fai la pizza quando la mangi come hai fatto la pizza fai la pizza quanto ne devo mettere? spalmati basta la spalmati basta zucchero basta zucchero è vero? è vero? è gioiato tira in su ancora? e spandilo bene mi stai studiando a fare la pizza dai muori oh figa faccio gli impianti industriali che vogliono scoprire una pizza una è bruciata quella del tavolo geometra guardalo qua il geometra grazie però non è più degestitato eh sì oh il fatto non adestato ancora non lo vedo ancora non aiuta va bene ma cazzo non ci ha mai ma cazzo non ci ha mai basta io te l'ho finita la molle basta basta zucchero basta zucchero eccolo lì eccolo lì eccolo lì eccolo lì guardate la mano con le mani no però mi vieni oh io te lo aspetto io te lo aspetto al posto spezzi bene che buon salenda sai chi è lui? mi sembra semola però te lo aspetto 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 semola cosa mi sembra e vabbè questa cosa è messa una figa non è che sono schifo no e questo lo aspetto e lo metti sopra la pizza no non sa di figa ma è il suo pulito il naso almeno che non ce l'hai sterile mi sono pulito il naso ce l'hai sterile ok vai ma dai ho toccato l'uccello oooh ma non è ma non è ma non è ma non è non è ma non è la scuda ho scudato io ho scudato vabbè 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 e la mia madre è un po' di cuciarose finalmente dai benedetta parodia e vai avanti per la pizza è abbastanza due uova due uova due uova questa è la tua guarda che hai fatto un'altra a questa è finita la mozzarella per te cazzo vediamo se faccela vedere vediamo se viene uguale guarda dimmi dentro l'oligano troppo a me non ti tratti più che cazzo che è questa? la mia? quanta ne devo metterti sta cazzo di roba fammi Luca due uova due uova due sei proprio in mezzo? ma che cazzo gli vai? cazzo grazie 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 non hai una pettina non hai una pettina ah va bene a vuoi morire? a vuol morire eh chiata ma sta venerdì no no dai dai prova a infornare senza sapere come si fa sembra una cosa dell'enterprise oh io aspetta che mi sposto dai no la faccia vedere sempre mia nonna a mezzogiorno la ruota della fortuna quella è la zannicci oh ma scapita quanto sta sotto oh ma lì c'è scritto off è spenta non fatevi male è risciuta era qualche una testa sta ripresa l'adio eh sozza sozza eh hai detto bene oh sozza sporca è quasi pronta è quasi pronta la pizza no io non si son taggata lì è diventa capra io lì non si son taggata è la caprona capra 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 comunezza che cazzo e dimmi come vieni vestita ma che cazzo anche voi vedi le vestite da zon non lo so andiamo a setare e sto cazzo